Io ti guardo e me non lo capisco Da che posto vieni? Voglio stupire tutti quanti, è un caso molto strano, non sono agitata, non sono in ansia, ma tanto emozionata e tanto felice di sposare l'uomo della mia vita. Adesso si inizia a sentire un po' di tensioni, inizia a sentire un po' di caldo, fino a che arrivavate voi non si sentiva niente, è arrivata quasi l'ora. Un po' di emozione in chiesa sicuramente, e dopo d'altro divertimento. Un po' di emozione in chiesa sicuramente, inizia a sentire un po' di emozione in chiesa sicuramente. E sono già felice per loro da già come sono. Per me hanno tutto, hanno la felicità, hanno la giovinezza, hanno l'amore, hanno tutto. Quindi posso solamente augurarli di averlo per tutta la vita come sono adesso. Poi anche a lui. Poi anche pianga. Mi si scioglie tutto. Mi si scioglie tutto. Quando il cielo non bastava, non bastava la pregata. Non eri solo da incontrare, ma tu ci sei sempre stata. Quando il tempo non passava, non passava la nottata. Eri solo più lontana, ma tu ci sei sempre stata. Eri solo più lontana, ma tu ci sei sempre stata. Eri solo più lontana, ma tu ci sei sempre stata.